ciao ragazzi allora siamo a due quest'anno è due voli cancellati sto facendo la bella collezione e ieri sera la wizard mi ha comunicato di avermi cancellato il volo per la grecia previsto per ottobre vabbè quindi brasile cancellato a marzo e ancora devono rimborsarmi la grecia me l'ha cancellata adesso quindi veramente sto collezionando dei bei voli cancellati per quest'anno vabbè adesso ricomincerà la tiritera della della richiesta di rimborso e un nuovo itinerario di viaggio il voucher vedremo vedremo vabbè comunque è andata così anche per questo insomma non vogliono farmi partire quest'anno vabbè ora vi saluto dalla sardegna è tutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non l'avete ancora fatto e dalla sardegna è tutto ciao ciao da renatau ciao